a belve federico fashion style ha fatto una rivelazione dicendo che la sua ex moglie ha sempre saputo che lui fosse gay una notizia che non ha sorpreso molto il pubblico dato che in molti hanno sempre sostenuto che la loro relazione fosse di copertura per questo sonia bruganelli ha deciso di dire la propria a proposito di ciò condividendo tramite una story instagram il suo pensiero l'ex opinionista del grande fratello vip infatti ha ricondiviso la rivelazione fatta dal parrucchiere e ha scritto davvero una frecciatina ironica dato che la cosa non era inaspettata secondo l'ex moglie di bonolis che a dirla tutta in questo caso ha assunto i panni di vox populi visto che quasi tutti coloro che seguono le vicende dell'air stylist dei vip la pensano come lei l'intervista a belve federico fashion style è stato ospite nella puntata di belve che inonda martedì 10 ottobre in questa occasione ha parlato apertamente del suo rapporto con la ex moglie e del suo coming out come mai aveva fatto prima dopo l'intervista verissimo il parrucchiere conosciuto dal pubblico grazie a real time e non solo ha avuto una relazione di ben 17 anni con letizia porcu dalla quale ha avuto anche una figlia sophie mael di sei anni federico e la compagna non hanno avuto una separazione semplice lui l'ha commentata così a belve credo che lei l'abbia sempre saputo e l'abbia sempre immaginato non credo che se entra suo marito vestito di paietta casa una non si fa una domanda forse c'è qualcosa che non quadra qualcosa che non torna ma magari forse stava bene anche a lei a ciò poi federico ha aggiunto dei pensieri sul suo essere e la sua infanzia dicendo che omosessuale ci si nasce non ci si diventa ci si nasce forse già da quando ero piccolo mi sentivo diverso dagli altri perché amavo fare i capelli alle bambine mentre gli altri facevano giochi da maschi ha aggiunto poi che questo nascondersi lo ha portato a rifugiarsi nel cibo e quindi poi a soffrire di disturbi alimentari e poi a soffrire di disturbi alimentari